I calli entrano negli stalli di partenza, nettamente il più veloce Serafino HP, nei confronti di Tony Pride e Salvatore Amaesta il più lesto tra i penalizzati, poi Teorema Spin Sector e chiude il gruppo, slide Sepada, si muove subito dalla corda Salvatore Amaesta per aggirare Tony Pride e andare a caccia di Serafino, dopo 400 metri di gara percorsi in 32 scarsi, Serafino conduce nei confronti di Salvatore Amaesta, Tony Pride, Teorema Spin Sector, chiude il gruppo, slide Sepada 47,600 iniziali, almeno questo c'è scritto sul mio cronometro, Salvatore Amaesta lascia anche la posizione dietro Serafino per andare ad impegnarlo, 1,2 e mezzo, gli 800, Salvatore sta passando al passaggio davanti alle tribune e completa il primo chilometro in 1,17 scarsi però con un 14,3 e un 29,3 intermedio Serafino ha due lunghezze precede Tony Pride e Teorema Spin che muove a largo 15,4 la frazione in curva avanzata di Teorema che si trascina Sector e slide Sepada Teorema adesso aggancia il battistrada, ancora una frazione in 15,3 riparte Salvatore Amaesta sotto la spinta di Teorema, lunghi paletti Serafino, seconda pariglia Sector, muove in terza ruota slide Sepada Miglio in 2,2 scarsi, richiesto Teorema, prova all'aggancio al battistrada, in cerca di Varco Serafino Battute conclusive con Teorema Spin che mette pressione a Salvatore Amaesta, sembra sopravvanzarlo ma interviene però Serafino HP, Serafino sembra avere le battute migliori ma poi rompe lasciando il successo a Teorema Spin che carpisce un'incollatura a Salvatore Amaesta Grazie a tutti Grazie a tutti